Ready, aim, fire! Buongiorno a tutti, il mio nome è Tieti Manetti Benvenuti in questo preview del video di un montaggio sceno Perché montaggio sceno? Questo è il duecentesimo video, come avrete notato al titolo, credo avrò scritto duecento Duecento, ve lo metto alla mostra Duecentesimo video in cui... Non dico nulla in speciale, tranne che vi ringrazio per tutte le volte che avete guardato i miei video Mi sono piaci, commentato, messo in un mi piace Ho fatto dei commenti costruttivi, che sono le cose più belle al mondo E non sto qui a dirvi cosa è un commento costruttivo, spero siete abbastanza grandi per capirlo Comunque, niente Cosa volevo altro dire? Scusate il disagio del fuck it time, l'ho caricato su facebook E quindi nella descrizione c'è la pagina facebook, stavolta per davvero E in cui potrete guardare il video E se potete commentate di un caso per il fuck it time prossimo Oppure, non so, vedrò come fare Intanto mi stanno scrivendo su TS, come sempre Cosa importante Asp, sto recando E così Niente E perché sempre 07? Interrompe i miei video E cosa altro volevo dire? E poi volevo dirvi che Venerdì o giovedì, non so quando Uscirò un video post al Games Week Poiché andrò Scrive ciao tubo 07 Ciao 07 In cui dico Tutto riguardo al Games Week Poiché sarò al Games Week di inganno E magari ci mettiamo d'accordo con altri youtuber Facciamo un maxiraduno di youtuber Che diciamo Youtuber emergenti Si dice così Non so se sono un emergente Ho 700 iscritti Non ne ho a migliaia Quindi youtuber che pian piano cercano di salire dalla massa E fare la differenza Così suona bene Uscire dalla massa e fare la differenza Diventare campioni mondiali di calcio No E Così Niente Parliamo, chiacchieriamo Mangiamo qualcosa Mangierò sicuramente qualcosa E giocheremo alla Playstation Sperando che facciano la Playstation Non l'Ikbox Ma dettagli Grazie a tutti E vi lascio al montaggio Poiché Buongiorno Qui Tizio20 Anche no Buonasera Qui Tizio20 Nel suo primo video Barra live Barra Prego Dio Buongiorno a tutti gli amici Il mio nome è Tizio20 E benvenuti in questa avventura nuova di Minecraft Buongiorno a tutti Il mio nome è Tizio20 E benvenuti in questa nuova avventura Con l'Ikbox Buongiorno a tutti Il mio nome è Tizio20 E benvenuti in questo nuovo video Sì Tutti ragazzi sono sempre io Certo Luca Sì Insieme a Tizio20 In compagnia di Gabo Powder Ciao a tutti ragazzi Qui è Gabo Powder Bentornati in questo nuissimo video Ciao a tutti Guardami Lui è blu Allora mettetemi l'uno di fianco all'altro Lui è blu E tu sei azzurro No io sono Lui ha le cuffie E tu hai le cuffie Blu marini E verde acqua Lui non c'ha una T gigante Lui dietro c'ha una spada di qualcosa E tu c'hai la T che vuol dire spada No che vuol dire Ma Oh la porca zazza Di Santa Maria di Gesù Madonna mia Corri dritto No 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 Ok il prossimo venire sarà il load No 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 Tati su 20 è tutto Ciao a tutti Puffo No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.